Iniziativa di solidarietà del club Rione Podestà di Ponte Cagnano per un artista di strada spagnolo derubato a Battipaglia nei giorni scorsi. Giovanni, questo è il nome del ragazzo proveniente da Malaga e diretto in Calabria, si era fermato a Battipaglia per qualche ora e dal suo ritorno in auto ha scoperto che i gnoti, dopo aver spaccato il vetro della sua vettura, gli avevano portato via tutti i soldi che aveva con sé più un telefono cellulare. A raccontare l'iniziativa di solidarietà Arturo Longo, socio fondatore del club. Giovanni, da noi battezzato Giovanni Vagitar, è un ragazzo spagnolo che abbiamo incontrato circa una settimana fa, ci ha raccontato un po' la sua storia, da dove viene e come è arrivato in Italia. Certo un po' particolare come situazione, né da condannare né da condividere, sono scelte di vita, lui vive alla giornata, ha fatto questa scelta un po' di tempo fa, ci ha spiegato, vive così, suona la sua chitarra e vive per strada. Ci ha fatto un pochino di anerezza perché è bastato guardare negli occhi, abbiamo trovato una persona, secondo noi, molto sincera. Quello che ci ha colpito è il fatto che lui non ha mai chiesto oltre, anzi, nel momento in cui abbiamo provato a dargli un pochino in più, lui ha anche rifiutato. E questa cosa ci ha un attimo destabilizzata e ci ha spinto a dargli una mano. Inizia ad esserci anche il sostegno dei privati, con delle piccole donazioni che non mi fanno tanto piacere, ci hanno dato la possibilità di ricomprare la chitarra, anzi la chitarra veramente è stata donata, il telefonino è stato acquistato, il vedo della macchina è stato acquistato e riparato, tra le altre cose l'ha montato lui perché Giovanni fa il meccanico. Stasera per un paio di notti proveremo a farlo dormire al caldo perché in macchina è comunque una situazione un po' particolare, fa freddo. Si muoverà verso la Calabria, almeno noi questo ci ha confessato. Samattina ha iniziato a lavorare, nel senso che con la chitarra nuova si è fermata in piazza a suonare ed è stata simpatica, anche ha messo un cartellone scritto datami a fare avverare il mio sogno, voglio comprare una Ferrari, quindi anche molto autoironico. Ecco, ti ripeto, questo ci ha spinto un pochino a darci una mano.